Con la strategia Farm to Fork sono due gli obiettivi che la Commissione si è data per i nuovi sistemi di etichettatura. L'etichettatura nutrizionale, la cosiddetta fronte pacco, dove c'è una battaglia tra il modello francese del Nutri-Score, che noi scoraggiamo, che noi sconsigliamo, e il modello italiano del Nutri-Inform, che invece dà più informazioni. Noi vogliamo informare il consumatore a scegliere e non condizionarlo. Ma c'è un'altra battaglia molto importante, che è quella dell'etichettatura d'origine obbligatoria di tutti i prodotti agroalimentari europei. Cioè finalmente fare trasparenza nei confronti dei consumatori che devono sapere da dove provengono le fragole della marmellata di fragole o il pomodoro delle conserve di pomodoro. Un obiettivo sacrosanto che l'Unione Europea vuol portare avanti e che presto diventerà proposta legislativa. I consumatori vogliono sapere da dove proviene l'origine delle materie prime.